A tempo d'estate di questo sabato 10 settembre diamo il benvenuto a Lisa Zuccarini, autrice del libro Doc a chi? Cronache e disastri di una mamma col camice appeso al chiodo. Berica, editrice. Ciao Lisa, benvenuta. Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. Allora, leggo in quarta di copertina. Lisa Zuccarini ha 38 anni fuori ma almeno 50 dentro, cattolica per scelta, moglie dal 2014, mamma dal 2017 di due bimbi, motivo per cui non dorme da quattro anni. Nel suo passato c'è una laurea mancata in medicina, nel suo presente la vocazione per la famiglia H24. Questo è il suo primo libro d'esordio, la prefazione di questo libro è firmata da Costanza Miliano. Allora Lisa, è un libro che come scrive giustamente Costanza è una droga, si legge dall'inizio alla fine senza fermarsi, tutto d'un fiato. Io non partirei da quando hai scelto ad un passo dalla laurea di tirarti indietro, io partirei da, secondo me, questo a mio modesto parere, da quando è cominciato tutto. La GMG a Colonia. Che è successo in quell'occasione? Hai ragione, è cominciato tutto perché è stato quello il momento della svolta, perché nel 2005 durante la GMG di Colonia ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito e che in quel momento era solo Roberto, evidentemente. Sì, come capita a molte coppie, il nostro primo incontro non è stato un colpo di fulmine, tutt'altro per quanto riguarda almeno me, nel senso che ho notato tutti i difetti possibili che ci potessero essere in questo uomo, in questo ragazzo, perché all'epoca eravamo giovani, io avevo 22 anni, lui ne aveva 24 e quindi c'è stato questo momento in cui sono rimasta un po' perplessa guardandolo, però poi nel tempo ho capito che in realtà quell'attrazione che avvertivo come una repulsione era veramente un richiamo forte a vedere oltre, a vedere oltre le apparenze, a guardare quest'uomo perché in realtà era come se ci fosse una luce puntata dall'alto su di lui che mi faceva pensare, mi doveva far riflettere sul fatto che potesse essere davvero la persona giusta per me, cosa che fino a quel momento non era accaduta perché come scrivo nel libro, non c'era stato fino a quel momento uno straccio d'uomo utile per concretizzare l'idea di un percorso di vita insieme nella sponsalità, cosa che sentivo insomma essere la mia vocazione. Ecco, scrivi delle cose molto belle a questo proposito, anche quando c'è il momento, io ho sottolineato questo, quando c'è il momento della preghiera serale alla GMG, gli offro di condividere le cuffiette più a gesti che a parole, temo di balbettare una cuffietta per uno, gomito a gomito, accendiamo la candela, ci diamo la mano per il Padre nostro, due cuori affiancati trepidano per le parole che ascoltiamo, per la preghiera che ne segue, per i semi gettati nei nostri cuori. A questo punto, ecco, possiamo, come dire, arrivare all'inizio del libro in cui racconti di questa, non direi laurea mancata, perché a un certo punto ti sei accorta forse che non era quello che volevi, che non era la triplice vocazione, così come viene definita da te, quindi mamma, medico e moglie, ma una vocazione ad essere mamma e medico. Perché hai scelto di non proseguire? Ecco, magari chi ci sta ascoltando dice come, tanti anni di studio, tanti soldi investiti e poi un passo indietro. È stato un percorso che evidentemente non sono riuscita a raggiungere nell'immediato, nel senso che ho dovuto soffermarmi e capire nel tempo quale fosse sul serio la mia inclinazione più profonda. E' chiaro che all'inizio, quando ero più giovane, ero proiettata con forza verso questa vocazione che era quella della professione medica. Mi attirava, mi piaceva, mi appassionava. Nel momento in cui però, nel tempo, mi sono iniziata a rendere conto concretamente, nella vita vera, di cosa volesse dire, di cosa significasse realizzare questa vocazione quotidiana. E nello stesso tempo cominciava a farsi più pressante l'esigenza di fare famiglia e di farla con dei criteri che sono miei, che sono quelli che ciascuno sceglie nella propria vita. Io evidentemente ho dei criteri che prevedono che fare famiglia sia fare presenza, stare quotidianamente con i figli, dare del tempo, dare le proprie risorse in una misura tale che la vocazione alla medicina non mi permetteva, non mi concedeva. E quindi conciliare entrambe queste direzioni a un certo punto è diventato impraticabile. Non lo vedevo più come un qualcosa di incarnabile nella mia esistenza. Chiaramente questa è la mia storia, è la storia di una persona tra tante che ha fatto un discernimento, non è detto che sia applicabile a tutte. Ecco, effettivamente nel libro io dico come ammiri le donne che riescono a conciliare questa tripla vocazione, perché chiaramente ognuno ha una sua strada, ognuno ha una sua chiamata. Io a un certo punto ho sentito forte che la mia chiamata era realmente ed esclusivamente alla famiglia e alla maternità, cosa che non è stata semplice, ripeto, non è stato immediato riuscire a individuare questo tipo di strada. Però alla fine ho capito che era l'unica percorribile per me. Infatti tu a pagina 45, quando parli della triplice vocazione che non ho, individui due categorie di lavoratrici che fanno questa scelta per volontà propria, quindi che decidono di essere mamme, mogli e lavoratrici, e le donne che invece questa scelta la fanno perché devono. È molto bella questa differenza che fai, ma è anche molto bello quello che tu dici a proposito appunto di queste donne. Lo fai con grande delicatezza, anche con grande solidarietà nei loro confronti. Assolutamente, anche perché nella mia cerchia di amicizie chiaramente ci sono tantissime donne lavoratrici che conciliano il lavoro, la maternità, la famiglia, e lo fanno con grande sforzo. Io voglio loro un enorme bene e mi pare che siano veramente delle eroine moderne, come scrivo nel libro. Quindi non sono assolutamente qui a denigrare la donna che lavora. È veramente importante sostenere queste donne, anzi, ma bisogna anche creare l'opportunità di valutare altro, perché ormai siamo arrivati ad un livello di progresso tale che poter conciliare lavoro con maternità risulta sempre più difficile e anzi si tende a evitare di pensare alla maternità, alla sponsalità, piuttosto si mira a realizzare l'ambito lavorativo. Il resto, se viene, magari un giorno si vedrà, ma non è più una vocazione che viene contemplata sin dall'inizio, quella del matrimonio e della maternità. È diventato più un orpello, un qualcosa che si aggiunge al resto. Invece una volta era praticamente il contrario. Quindi io direi che il progresso va benissimo e va accolto e va preso per i suoi ai lati positivi, però bisognerebbe mediare un attimo tra il passato e questo presente che ci prospetta difficoltà crescenti per tutte le donne che vanno letteralmente in crisi nel tentativo di conciliare a loro discapito il tempo dedicato al lavoro con quello dedicato alla maternità, perché ci sono donne portatissime per il lavoro fuori casa, ma donne che non lo sono e che devono per loro necessità conciliarlo, ma con grande sofferenza. In molti casi purtroppo vanno in crisi e da quando ho scritto il libro ho conferma di questo, perché molte donne che leggono si ritrovano e mi scrivono che effettivamente vivono questo tipo di dissidio. Ecco, poi magari su come le donne, le tue amiche, ma appunto anche magari coloro le quali ti seguono sui social, hanno recepito, hanno accolto questo libro, ne parleremo dopo. A proposito di mamme, diciamo che riconosci tre categorie, le neomamme, le mamme trendy e le mamme FDR, le mamme in fase di recupero. Come nasce questa triplice divisione della categoria mamma? Sì, io per fare ironia chiaramente estremizzo a volte la realtà, ma chiaramente è fatta anche di tante sfumature. Però questo capitolo che tu citi racconta quello che io osservo al parco giochi, dove praticamente ci si può incontrare con tutta la varietà possibile di mamme esistenti, oltre ai padri e ai nonni che sono un pochino in minoranza, ma ci sono pure loro. E quindi ho fatto questa distinzione nelle neomamme, le mamme che sono diventate madri da poco e che quindi sprigionano quest'aura di lietezza, di gioia, nonostante la fatica e il fatto che risultino comunque provate. E poi ci sono le mamme trendy, che invece sono quelle che si mostrano totalmente in tono, totalmente serene, non si preoccupano neanche troppo di quello che combinano i figli, ma fanno comunella tra loro, si scambiano pareri, sono belle con la maglietta, la gonna precisa, truccate, cosa che invece non sono le mamme in fase di recupero, come la sottoscritta, che invece al parco si presenta sostanzialmente col tutone, con il molletto nei capelli, e tende ad essere seduta per metà sulla panchina quando mi siedo, perché in realtà sto sempre in piedi, pronta per lo slancio al recupero del figlio che si butta dall'altalena, dallo scivolo, da qualche superficie mobile. Quindi queste sono le tre categorie che ho sintetizzato. E a proposito di tre suddivisioni, Lisa Zuccarini scrive, credo di partire bene dicendo che la felicità è davvero multiforme. Che cos'è per Lisa la felicità? La felicità? La felicità è un obiettivo che va raggiunto a piccole dosi. A volte ci sfugge, nel senso che magari la disperdiamo, non la intravediamo, ma c'è già. Ed è un qualcosa che è presente già nei nostri giorni. L'importante è saperla cogliere. Nelle piccole cose, perché credo, come scrivo, che la felicità sia principalmente nelle piccole cose, in quegli sprazzi di luce che anche nelle giornate buie possiamo sempre raccogliere, come la chiamata di un'amica, il sorriso del bambino, anche dopo aver fatto una grande marachella che ci fa arrabbiare, c'è il bimbo che poi ti dice scusa e ti abbraccia. Quindi anche quella tenerezza che arriva in modo così sorprendente e felicità. Tanti piccoli momenti di gioia pura, gioia assoluta, che comunque appartengono alla quotidianità. E poi c'è quella felicità che invece si può ricordare facendo memoria dei momenti grandi e belli della nostra vita, come il giorno del nostro matrimonio, il giorno in cui abbiamo ricevuto una notizia bellissima, il ricordo di un qualcosa che fa parte del nostro percorso, anche spirituale, il giorno del battesimo dei miei figli, per esempio. Tutto quello che ha a che fare con i sacramenti per me in qualche modo si associa a momenti di grandissima gioia. O comunque riconoscere e fare memoria delle cose belle che abbiamo ricevuto e che servono comunque a richiamare nei momenti di down spirituale e fisico, richiamare che c'è bellezza. Nella nostra vita c'è stata e c'è bellezza. Quindi non siamo figli abbandonati alla nostra sorte. Comunque c'è qualcuno che dall'altro ci ama e ci pensa. E poi c'è la felicità che si ritrova dopo averla persa del tutto. Cioè io dico può la felicità fare un giro della morte completo, sotterrarsi totalmente e poi uscire fuori dalla propria catacomba. Sì, è possibile anche che la felicità la si riscopra perdendola del tutto. Ci sono dei... Io non so la pedagogia di Dio esattamente come va, però ho scoperto che Dio a volte ci fa perdere totalmente la felicità. Cioè ci porta verso un momento quasi di smarrimento pieno per poterci far riscoprire che noi siamo figli che hanno bisogno della sua presenza e che possiamo riscoprire la bellezza della sua presenza anche dopo aver subito una grave ingiustizia, un grave lutto, una grave tristezza. Quando si perde la felicità a volte quella è una risorsa importantissima da non sottovalutare per poterla riscoprire sotto altri punti di vista e soprattutto sotto il punto di vista che a me preme di più che quello della relazione con Dio. Ecco, allora siccome è molto bello e intenso quello che stai dicendo, Lisa, noi abbiamo un tassativo pubblicitario da mandare in onda. Resta collegata con noi e poi torneremo insieme per continuare questa bellissima chiacchierata. Tornati insieme in diretta con Lisa Zuccarina autrice di questo libro Roberica Editrice Doc Acchi Cronache e disastri di una mamma col camice appeso al chiodo. Proprio in questo istante prima di questa pausa Lisa ci stava appunto raccontando della felicità. La felicità nelle piccole cose la felicità ricordando i grandi momenti anche la felicità persa che poi magari fa un giro incredibile un giro della morte così come l'hai definito tu Lisa e poi arriva una felicità più grande. Credo che tu faccia riferimento almeno la leggo così ad un momento anche difficile vissuto con tuo marito Roberto. La prima cosa che immagino una coppia pensa quando si sposa è metter su famiglia quindi avere un figlio e se questo figlio non arriva che cosa succede? E se poi questo figlio si rimane incinto e poi il percorso di viaggio si interrompe questa è la felicità persa e il dolore grande per poi come dire essere pronti ad accogliere uno a una felicità ancora più bella sì hai colto insomma nel segno noi abbiamo vissuto questa esperienza della difficoltà di riuscire a concepire un bambino all'inizio nei primi anni di matrimonio e successivamente quando finalmente un bimbo era arrivato nella nella mia pancia è salito al cielo per direttissima dopo qualche settimana e lo racconto ho voluto e sono stata invitata a raccontarlo perché ho capito che poteva essere utile è stata una scrittura un po' dolorosa un po' difficile che però ho voluto fare con piacere perché questa è un'esperienza che molte donne vivono nel nascondimento nel silenzio è una qualcosa che non si confida facilmente di cui non si parla davanti a un caffè al bar facendo due chiacchiere eppure è una qualcosa che è comune comunissimo alle donne perdere il proprio bambino però come per molte storie anche nella nostra c'è stata una resurrezione perché questa perdita ci ha fatto fiorire sotto tanti punti di vista ci ha fatto capire in primo luogo la bellezza di essere genitori anche se Dio chiama verso di lui a sé verso l'alto un figlio quindi noi ci sentiamo tuttora genitori di quel bambino che sulla terra non è mai arrivato perché comunque sappiamo di averlo concepito e che c'è stato un momento in cui la sua anima mi ha abitato e questo rende conto di una maternità che viva già dal momento del concepimento e che si sente che se si fa un attento studio di se stessi un attento introspezione si capisce che non può che essere così si è mamme dal primo istante in cui la creatura si forma nel grembo e poi c'è stato questo rifiorire della nostra convinzione alla genitorialità perché a quel punto ci è diventato palesissimo che volevamo sul serio diventare genitori fino a quel momento era una sofferenza che non arrivasse un figlio quando un figlio è arrivato ed è stato chiamato al cielo allora abbiamo capito che veramente quello era il desiderio più grande che avevamo come ho detto prima la pedagogia divina è molto particolare Dio non ci lascia soli ci insegna da padre con amore qualcosa che può anche farci soffrire ma per farci arrivare ad un obiettivo più grande ad una consapevolezza più grande sempre ad una crescita ci spinge sempre un pochino più in là rispetto a quei limiti anche mentali che noi pensiamo di avere che pensiamo di non poter superare a quel punto abbiamo iniziato ad affidarci completamente quando fino a quel punto i nostri sforzi erano stati tutti umani tutti dettati alla ricerca del come mai non ci arrivasse questo bimbo quindi affidarsi ai metodi scientifici diciamo a cercare di capire i motivi medici a quel punto però ci siamo affidati e basta abbiamo detto se questo bambino deve arrivare se dobbiamo essere genitori sia fatta la volontà di Dio altrimenti magari adotteremo insomma praticheremo altre strade ma sempre secondo la bontà divina e la volontà di Dio e sempre considerando che adesso sappiamo che questa è la nostra vocazione sul serio siamo chiamati a essere genitori quindi ad essere adulti che accolgono una vita mostrando mostrandosi desiderosi di offrire la propria vita e il proprio amore ad un'altra creatura in piena libertà della creatura che è Dio è molto bello quello quello che dici quello che hai detto in questa nostra conversazione Elisa riprendo le parole che Costanza Miriano ti ha dedicato nella prefazione fa capolino in tutte le pagine di questo libro colui il cui amore tenero è totale sana cura guarisce il vero protagonista del libro in conclusione battuta finale ne parlavamo a metà conversazione come le donne stanno accogliendo questo libro questa tua storia quale riscontro stai avendo le donne si sentono complici della mia storia perché ne ritrovano tanti tratti in comune con la loro quindi mi confidano a loro volta le loro disavventure di mamme le loro crisi i loro successi i loro fallimenti siamo tutte praticamente unite dalla stessa sorte che è quella di barcamenarci tra le difficoltà di ogni giorno e soprattutto per quanto riguarda la mia prospettiva che è quella di una scrittura comunque cristiana che guarda la relazione anche con Dio di cercare di conciliare sempre anche la speranza in una paternità con un Dio che non ci abbandona e non ci tradisce mai quindi siamo siamo sulla stessa barca ci sentiamo unite e ottimiste nonostante tutto nonostante le difficoltà che ci possono essere ti ringrazio di cuore per averci dedicato il tuo tempo ma ti ringrazio di cuore soprattutto e tu lo scrivi nel libro sei negata per la tecnologia quindi come dire fare questo collegamento Skype davanti a una webcam con le cuffiette davvero devo ringraziarti di cuore perché come dire ti sei messa in gioco grazie abbiamo annullato le distanze perché la tecnologia serve anche a questo quindi ti ringrazio di cuore per aver accolto con grande gioia disponibilità questo nostro invito ricordo il libro di Lisa Zuccarini Doc a chi cronache disastri di una mamma col camice appeso al chiodo Berica editrice grazie ancora Lisa è presente sui social quindi potete seguirla e seguire anche quello che racconta della sua famiglia dei suoi figli e del suo essere mamma e sposa cristiana grazie ancora Lisa un grande abbraccio grazie un abbraccio a te a tutti quanti grazie